Dalla divulgazione allo sport praticato, da grandi ospiti verso tutte quelle declinazioni di storie, epica e emozioni che lo sport è in grado di veicolare. Nel comune di Pesero è stata presentata questa mattina la prima edizione di Battiti Festival, il primo festival dedicato alla cultura e filosofia dello sport che arriva al Parco Miralfiore ad ingresso gratuito dal 21 al 24 settembre. L'idea è stata questa, è stato cercare di indagare quanto l'ambiente dello sport possa essere formativo per la costruzione del carattere. Da lì siamo partiti e abbiamo cominciato ad esplorare le varie possibilità, di conseguenza testimonianze di sportivi, testimonianze di sportivi anche speciali e particolari, giornalisti, scrittori, perché no, filosofi. Insomma abbiamo messo in piedi un bel pacchetto di ospiti che verranno a dare la loro prospettiva, la loro visione di questa intuizione, di questa idea che l'ambiente sportivo sia l'ambiente perfetto per una costruzione, una valida costruzione del carattere. Ovviamente siamo nel Parco Miralfiore per cui questa cosa ci dà la possibilità non solo di occuparci di tutto quanto fa spettacolo ma anche di fare un po' di sport praticato. Per cui l'idea è che ci sia il palco nel quale ci saranno divulgazioni spettacolo serali affidate appunto a questi grandi personaggi e anche attività diurne legate invece di più al mondo dello sport praticato. Per cui ci saranno momenti divulgativi, momenti di promozione da parte dell'associazione sportiva e da parte delle palestre per concludersi poi la domenica mattina con una grande corsa podistica realizzata, ideata, non è il primo anno ma quest'anno fa parte di battiti dalla Croce Rossa, Run for Red Cross e poi una ciclistica nella quale si avrà l'onore di pedalare insieme a personaggi del mondo del ciclismo come Zico Pieri, Omer Di Felice e Adriano Malori. Insomma abbiamo messo in piedi qualcosa che mi verrebbe quasi da dire che visto che si apre con la presentazione della WL Basket e si concluderà con il saluto confermato pochi istanti fa proprio del Vescovo di Monsignor Salvucci, insomma tutto quello che c'è dentro non può che essere straordinario. Battiti è il titolo quanto mai eloquente scelto per enfatizzare la dimensione emozionale dello sport che è alla base della rassegna. Battiti perché siamo in un ambiente sportivo e come tutti gli sportivi sappiamo benissimo come in ogni momento che fanno sport possono aumentare i battiti cardiaci, i battiti cardiaci che aumentano sia per un'attività fisica prolungata ma che possono aumentare per delle emozioni e quindi siccome vorremmo portare alle persone che vengono al festival momenti emozionanti abbiamo deciso che battiti poteva essere veramente una parola che collegava tutti, da la persona che fa sport alla persona che guarda lo sport alla persona che si emoziona davanti a immagini sportive. Dopo la presentazione della VL l'elenco di ospiti sul palco del Miralfiore si srotola personaggi della narrazione sportiva quali Omar Di Felice, Paolo Viberti, Valerio Rubino, Giorgio Verducci, Adriano Malori, Paolo De Chiesa, Luca Pagliari, Andrea Lanfri, Leslie Pario, Enzo Vicennati, Giuliano Sinibaldi, Zico Pieri, Massimiliano Secchi, Paolo Ercolani, Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi. Abbiamo voluto portare storie, storie di persone, storie di persone che vivono lo sport in modo diverso persone che hanno fatto della loro vita sportiva un lavoro oppure si sono avvicinati allo sport in altre situazioni o hanno fatto dello sport la loro scuola di vita e queste persone possono trasmettere tante emozioni a tutti e possono far vivere lo sport non solo come una partita di calcio, di basket oppure una gara dove c'è chi vince e c'è chi perde ma possono vivere lo sport in modo diverso in situazioni estreme e condividere tutti questi momenti, questi eventi con tutti coloro che verranno a Battiti Festival e potranno portarsi a casa veramente delle emozioni e quindi siamo sconvinti che queste serate facciano poi cambiare e vivere Battiti Festival a tutti grandi, piccoli e anche a persone di una certa età. Quindi questo Battiti Festival deve essere veramente un momento di cultura e filosofia dello sport è un momento di visione dello sport a 360 gradi.